Adesso è accesa. Ragazzi vi ricordate prima che vi avevo detto del disegno? Non troppo vicino, così è giusto. Va bene. Li disegno tutti io e questo è un altro. Ma chi arriva ancora? Arriva uno. Come che ne so? È arrivato! Fare il giro no, è che è più comodo. Paolo, ha pagato quel ragazzo lì. Eh, comincia adesso a muoversi. Vero? E se noi li cambiamo, ma è meglio se si muove un po'. Si adatta di più il terreno. Si adatta di più. Adesso si sta allenando però due giorni. Ah sicuro? Un giorno faccio. Ma la gara si chiama sempre due giorni. Un giorno impegnato? Due giorni 100 euro. Eh, poi giriamo un po' l'economia. Se più dove metterli i soldi. Andiamo, andiamo in Trentino. Come se ne so, è più in Tadaria. Viene qui in alto, nascondiù chi dovrà. Al 15 di aprile. Allora, al 15 di aprile. No. Allora, io devo tirare via le croste qui. Mese e mezzo. Ciao. Vieni con me, che te le faccio tirare via io le croste. Che devo saldare? Se ti metto sotto una barrettina leggera. Te le gratto via io. Poi col sudore si è chiaro. Le gratto via. Due minuti vanno. Col sudore e poi dopo si... Col sudore si staccano. Ci metti su... Ci metti su un bel... Un bel foglio, un pezzo di compensato. Devi farlo respirare. Perché? Perché questo è peggio ancora. Eh no, se devi respirare. E ma ti tocca contro? No, no, no. Non tocca contro. Viglia? Se prende aria? Stacca la spina di quello. Stacca la spina di quello. Fa un'altra roba. Lo so, spegnilo adesso. Sei in natura. Mi sembra il minimo. Consumo di più io che gli altri. Piante di toccargli le cose che dopo vengono via. Si staccano, eh. Stavo guardando il gioco che hanno. Non va mica bene. Eh, che caccia. Il gioco è... Il gioco è per dargli quello. Di lampo troppo. Il gioco è... Il gioco è quando prende il disassi che lui fa le cose della montagna. Oh, non va mica in strada, eh. Ma è andata a fare il bispino, ma... Anch'io l'ho fatto con mia moglie. Eh, ma tu hai fatto... Tiro sulla mano per...